Sorrentino e allora io vado subito a chiedergli un po' cosa è successo in quell'azione del rigore perché riguardandola da studio non sembrava proprio così evidente. No, non sembrava ma non lo era infatti, io sono uscito per proteggere solamente la palla, non ero intenzionato ad andare sull'uomo. Poi lui è stato bravo a cercare il contatto e l'albito ha visto così e ha dato rigore. Allora, ripartiamo dal secondo tempo contro il Napoli, hai sorpreso tutti, oggi hai continuato su quel tipo di prestazione dimostrando nonostante l'età grande sicurezza. Sì, io mi alleno sempre al massimo anche in settimana per dimostrare al mister che sono pronto. Napoli sono delle emozioni che si provano poco nella vita, non capita spesso di giocare contro una squadra di Serie A che punta sia a vincere Champions, campionate e così. Io do sempre il massimo, quindi se arriva che devo giocare do sempre il massimo, poi le scelte le fa il mister. Nella tua sfida personale con Moscati, secondo me sei stato determinante nel primo tempo perché al 32esimo, se non ricordo male, ti sei presentato a tu per tu con i tempi giusti, sei uscito sui piedi. Sì, era una cosa che avevamo programmato anche in settimana, che loro avevano questa giocata laterale e soppavano e tiravano. Io mi sono fatto trovare pronto e l'ho chiuso. Vuoi mettere un po' pressione a Di Gennaro? No, no, assolutamente no. Io e Raffa siamo molto uniti, ci alleniamo sempre al massimo, poi l'ho detto, le scelte le fa il mister. Il studio sorridono, però. Sam, sorridono. Complimenti, complimenti, soprattutto per aver parlato il rigore che poteva riaprire la partita. Grazie.